La raccolta dei farmaci torna anche quest'anno con l'obiettivo di aiutare le famiglie che ne hanno più bisogno, soprattutto in questo contesto di grave crisi sanitaria dovuta al covid, ma anche economica con una ripresa che stenta a ripartire. Spesso c'è chi dona una semplice scatola di tachipirina, ma anche di sifrentanti e mascherine, un gesto importante per quanti vivono la quotidianità negli stenti. Fino al prossimo lunedì 14 febbraio sarà possibile donare medicinali da banco nelle farmacie aderenti. 55 kg che hanno dato l'ok in Basilicata, mentre a livello nazionale sono 5.000. Sono molto importanti, soprattutto in questi due anni in cui diverse famiglie hanno avuto tanti problemi economici, diventa ancora più importante il supporto, la socialità e il sostegno. Non ci dimentichiamo che poi tutti i banchi farmaceutici sono associati a onlus che agiscono sui nostri territori. Quindi le nostre donazioni vanno alla nostra città e alle persone che incontriamo tutti i giorni. Questa iniziativa che portiamo avanti da tanti anni ci siamo resi conto che un piccolo aiuto da parte di tutti quanti noi fa tanto, perché sono persone che non riescono purtroppo a comprare anche i farmaci essenziali e quindi un'iniziativa del genere è importante. I medicinali raccolti sosterranno 31 realtà regionali che si prendono cura dei bisognosi. Durante l'edizione 2021 in Basilicata sono state donate più di 4.000 confezioni di farmaci per un valore di circa 30.000 euro che hanno aiutato a curare poco più di 3.000 assistiti di 35 enti. I farmaci raccolti saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo gratuitamente cure e medicine. E c'è grande sensibilità. Ecco cosa donano i Lucani. C'è sensibilità perché chi conosce l'iniziativa viene già chiedendo di donare. Ovviamente antipiretici, tachipirine, antinfiammatori sono quelli più richiesti dalle stesse associazioni che poi sono loro a indicarci a seconda delle persone che hanno quelli che gli possono servire di più, ma disinfettanti, cerotti, anche mascherine igienizzanti perché di questi tempi servono anche queste cose.